Un giorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In A1 tra Monte San Savino e Arezzo in direzione Bologna, 4 km di coda stabili per un incidente avvenuto all'altezza del km 365. Si sono inoltre formati 6 km di coda tra Valdarno e Monte San Savino in direzione Roma. In A15 un km di coda tra Aulla e l'allacciamento per la A12 in direzione La Spezia. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra Colle Valdelsa Sud e Colle Valdelsa Nord in direzione Firenze, chiuso lo svincolo di Colle Valdelsa. Sulla tangenziale di Siena sono chiusi per lavori gli svincoli di Acqua Calda e Siena Nord. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!